Quest'anno la festa dei fiori sta dando una nuova connotazione a tutta la città. Non è solo uno stravolgimento d'immagine, è qualcosa di più profondamente nuovo. Siamo all'anno zero praticamente di questo evento fanese. Scelerati a parte, tutto il centro nelle sue direttrici principali ha subito un maquillage floreale che si avverte e si sente anche. Noi cerchiamo comunque di coinvolgere tutto il centro storico, appunto in questo evento è una festa molto bella che arricchisce e chiude il discorso della festa dei fiori, quindi proprio per rendere questa città viva e animata cerchiamo di coinvolgere tutti i commercianti, tutti i ristoranti, i bar per cercare di ravvivare il centro storico. Ci sono delle zone che vanno molto al di là della piazza, che sono meravigliose, bellissime. Vestiamole semplicemente ancora di più perché noi comunque la base ce l'abbiamo, Fano è bellissima. Bisogna soltanto vestirla un po' di più per renderla ancora più accattivante a chi gira. Ma per essere un vero contenitore culturale e innovativo non poteva mancare la parte di spettacolo. E a questo ci pensano i fratelli Carboni che in tema floreale possiamo dire che hanno una vera e propria vocazione viscerale. Siamo veramente contenti, ringraziamo Proloquo e Comune per averci dato questa opportunità di organizzare questa manifestazione in piazza 20 settembre per sabato 24, quindi vi aspettiamo numerosi e la parola ai Carta Carbone. Appunto la serata si svolgerà in questo modo, dalle 20 inizierà Emidio DJ, DJ Dad e poi alle 21.30 circa i Carta Carbone si eseriranno con il loro show classico di musica disco rock 70, quindi cercheremo di far ballare tutti, anzi ballerete tutti. E che dire, poi la serata si chiuderà sempre con un DJ set fino a tarda notte. In mezzo a una settimana di eventi vogliamo concludere con una festa in piazza, una festa stile figlie dei fiori, anni 70, anni 60-70, quindi un tuffo nel passato, una fase conclusiva di questa estate che sta finendo, siamo quasi all'inizio dell'autunno.